Siamo riusciti a intercettarlo impegnatissimo Felice Scarnecchia che immagino voglio ringraziare intanto tutta l'organizzazione perché siete belli coesi, sorridenti nonostante la fatica, questo è un vostro punto a favore? Guarda sì, hai toccato il tasto giusto, un grazie enorme a tutto lo staff che è composto da tantissime persone che amano il triadon perché i loro ragazzi si allenano con la nostra squadra e si prodigano in mille modi per dare una mano in tutto e per tutto Felice, è difficile raggiungere sempre aggettivi nuovi, io mi sono permesso in fase di presentazione di definire questa edizione come l'anno della consacrazione si può sempre migliorare però mi sembra che comunque vi state assestando, state dando continuità a un evento e questo è anche un po' consacrazione Sì, direi di sì, i numeri sono leggermente in crescita però per quello che sta succedendo in questo momento in Italia nelle nostre zone purtroppo che non ci sono grandi numeri, avere i numeri leggermente in crescita secondo me è molto positivo l'entusiasmo che c'è delle persone ci fa veramente molto piacere perché comunque è un continuo ringraziamento per quello che con molta fatica però riusciamo a fare Per chiudere cosa vuoi aggiungere? Ma non lo so, aggiungerei... finiamo presto perché siamo stanchissimi adesso a questo punto cioè organizzazioni di una gara di questo tipo comporta veramente un dispendio energetico e psichico enorme per cui i ragazzi, le persone che danno una mano sono tutte quante estremate per cui arriviamo veramente a voler vedere la fine, voler vedere tutti con i sorrisi che però magari vanno via no, in senso buono, nel senso per dire vanno via soddisfatti, questo intendevo stiamo facendo il pasta party, il pasta party è la parte finale, faremo le premiazioni durante il pasta party e vedo passare vassoi da tutte le parti per cui questo ci rallega molto